Erano stati messi in vendita online a 20 euro ciascuno, ma in realtà si trattava di antichi volumi, per la precisione il Lunario per i contadini della Toscana, editi dal 1776 al 1789, di proprietà della comunità camaldolese. Adesso sono stati recuperati e ricollocati nella millenaria biblioteca del Sacro Eremo di Camaldoli. Nel corso del 2020 il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona aveva infatti portato avanti una più ampia attività di indagine per monitorare il commercio di antiquariato ed opere d'arte su siti internet di compravendita e marketplace dei social network. La loro attenzione era stata così attirata proprio su questi volumi messi in vendita da un abruzzese. I militari hanno quindi avviato le dovute verifiche e dopo aver riferito alla procura di Teramo, quest'ultima ne ha ordinato il sequestro. L'uomo infatti non era riuscito a motivarne né il processo né la provenienza, per cui i volumi sono stati classificati come provento di furto e oggetto di successiva ricettazione. Inconfondibile il timbro della congregazione camaldolese, i due colombi che attingono dal medesimo calice, i volumi valgono complessivamente qualche migliaio di euro. Adesso sono stati riconsegnati dai carabinieri nelle mani dei legittimi proprietari, i monaci camaldolesi. Don Ubaldo Cortoni, esperto bibliotecario e archivista della comunità, ha spiegato che i volumi erano editi e stampati assieme a riviste e calendari del settore, venduti a quel tempo dai librai. Erano utilizzati soprattutto dai fratelli per gestire le attività della mausolea. Sono infatti volumi utili all'agricoltura e alla selvicoltura e riportano indicazioni pratiche per l'attività e il calendario con i santi del giorno.